Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione di questo film originario è Netflix, non muoio neanche tanto perderci tempo Netflix, porca di quella puttana, ogni santa volta che tu porti un film io mi devo rompere i coglioni, mi devo annoiare porco giudo, non riesco ad avere un film che me ci diverto ma porca puttana, ma quelli che mi hanno detto The Gray Man è una merda ma sta roba qua, che cos'è? e l'altra volta buba, e questo ho passato da cancellare e da cancellare comprende dal catalogo sta roba proprio, di questi film bisogna cancellare dal catalogo e mannaggia a voi, a quelli che se lamentano che dicono, eh no, The Gray Man è una merda no, no, questi sono belli, due ore, porco giudo che non succede un cazzo, gli ultimi dieci minuti succede qualcosa vabbè, ognuno ha i suoi gusti, chi di merda però meglio The Gray Man, anche se dici minchia, non è che è grandissimo Cina, ma io vabbè, prima di iniziare a parlare di sto filmone tra virgolette vorrei salutare e ringraziare chi mi ha commentato gli ultimi video mi raccomando, commentate, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, così sarete sempre avvisati se è attivata la banellina sarete avvisati tutti i video che caricherò quindi un salutone lo mando a Barbara Rossi che non manca mai è sempre lì perché è attivata la banellina quindi giustamente è sempre pronta anche prima delle premiere, lei commenta Alessio Bartoli qualche volta si fa vivo Francesco Ippolito è sempre una presenza fissa sul canale e sono contentissimo un saluto anche a Zio Peppe 75 Massimo Productions Ancio L'Ignazio Alagna e basta così detto questo parliamo di sto film film che dovrebbe essere un thriller dovrebbe avere la critica sociale del potente che sottomette la persona diciamo povera basta avete rotto i coglioni penso che siamo siamo in Messico sinceramente ma manco manco mi ricordo più perché sto eliminando perché è stato troppo vedere sto film poi questa imbecille porca puttana rincoglionita un'ex poliziotta che si è ritirata lì buttata a fare contadina con suo figlio non sappiamo neanche il marito dove sia o meno viene ingaggiata da questa penso sia sua madre una signora non so chi cazzo è ma gli dice veramente che è morta questa ragazza che lavorava in questa villa che doveva fare una serata a fare la cameriera a fare la sguattera per i milionari bastardi ecco questi milionari ne nascondono un bel po' di segreti ci hanno pure in mano tutta la città ovvero qualsiasi cazzata che fanno viene coperta da chiunque dai poliziotti dalla comunità dal comuno e se tutto ci passa tutto perché forse loro hanno spesso un sacco di soldi hanno dato ovviamente un sacco di di liquidità ecco quindi hanno il culo parato a qualsiasi puttana che fanno facciamo una scienza di questo fratello e sorella che sono super sballati tutto lui va un po' bisex pure lei lei si dovrebbe sposare lui non vuole la vuole fare in gelosire uno si chiede perché vuole fare in gelosire la sorella due domande uno se le fa ma non voglio dirvelo perché già il fatto che voi volete fare in gelosire la vostra sorella qualche problema c'è nel senso non lo so eh io già capisco ma che deve fare in gelosire ma che cazzo ne frega a lui fa il belloccio con le femmine lei che lo guarda male e là uno già ci viene in mente cosa ci sia e qua anche c'è un po' di copiato di old boy chi mi capisce che capisce che capisce ma un po' di fantasia no perché come sempre dobbiamo sempre copiare dai vecchi film come dice anche il dottor Dracula cioè non c'è un cazzo di fantasia quindi bisogna copiare dai vecchi film abbiamo una fotografia che non è male perché ormai la fotografia la sono fatta tutti quanti come ho capito c'è un corso online per fare tutti quanti una buona fotografia le musiche sono scassamichia e ci mettono delle musiche e non c'è non cazzo siamo quasi quasi a vedere un film di Lucio Fulci cazzo c'è non quelle musiche psichedeliche alla Daria Argento ma che cazzo è cioè io mi sono chiesto mi ho detto ma cosa c'è non queste musiche anni 70 scene to wave anni 80 pure ma che cazzo boh ce le buttano lì in mezzo la recitazione siamo una qualità scadente di tutti tutti fanno schifo a recitare da lei proprio cazzo poi la faccia da ebete tutto il tempo tutto il tempo lei è così e uno mi dirà ma è buona non me ne frega un cazzo perché la recitazione mi interessa poi a me può essere anche la donna più bella del mondo ha preso l'unissuniverso se non sai recitare per ne mandare a fare in culo perché questa non sa recitare e se uno mi dirà no ma se non ma porca anche le pericolose lei sembra è contenta non è è straniata anche non è manco qua è peggio dipendente di Gal Gadot a meno che Gal Gadot te le fa tre espressioni in croce te le riesce a fare lei manco quella ti riesce a fare è una rincoglionita lì che non in colpa chiunque io mi ricordo ci sta la scena in mente siccome c'è lei abita come ho detto nella campagna ed è passato là vicino un altro campagnolo e lei ha detto no secondo me tu non è perché andavi appresso al puma tu ero perché ti sei fatta la ragazza ti piaceva vero l'hai voluta lei ha detto no ma tu gli hai detto sì quella scena io vi giuro mi hai detto ma cosa cazzo è una parodia che merda è questa cosa vabbè a parte questo andiamo negli spoiler io vi avviso vi spoilerò tutto vi dico perché dammene fai tutto un cazzo quindi se lo volete andare a vedere soffrire per due ore come ho sofferto io andate a vedere su Netflix sta merdata quindi io vi saluto vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi al canale almeno fatemi vedere che supportate mettete la scena di piace dici ma io sopporta sta roba per noi che cosa ci costa a mettereci mi piace quindi mettete mi piace per favore ma partiamo con gli spoiler per niente come ho detto questa è gelosia alla fine i fratelli e sorella si inchiavavano spesso e volentieri si trombavano io dico ma c'hai un sacco dei soldi puoi avere le donne possibili escort della madonna ma proprio tua sorella ti devi chiamare ma chiamati qualcun altro cioè ma non ho capito sta cosa eppure lei può avere dei maschi dice sai è un cesso non sa la fare nessuno e manco lui sono che ne so sono proprio degli disgraziati che non dovrebbero farlo neanche cioè fare sesso con un parente non devi farlo manco se stessi morendo cioè compri una bambola confiabile a sto punto e qua ritorna quella cosa che vi ho detto di Old Boy ovvero attenzione spoiler anche su Old Boy ovvero quella scena che il padre si faceva alla sorella e qui poi iniziano tutti i film che non vi voglio dire di Old Boy qua stessa cosa fratello e sorella si fanno il fratello poi si ammazza perché si sente in colpa perché ci finiscono due persone che muoiono ovvero il suo fidanzato di lui perché lo becca mentre si trombavano a vicenda e più viene la cameriere che ha ripreso tutto con il suo cellulare e poi lei non è che intelligentemente dice carico su Youtube cioè ma anche questo loro scappano con il suo telefono ma cos'è un film dell'anni 90 non potete caricarlo su Youtube sto video su YouPorn su Pornhub ma dovunque lo potete caricare sto video e così sarete sempre che anche se il telefono viene preso viene cancellato i video online i video ce l'hanno tutti solo scaricano no nessuno ci pensa sono delle teste di cazzo tutti quanti dall'inizio alla fine di tutto il cast ma che cazzo è sta roba il film si avrebbe concluso in 10 minuti lei caricava i video su Youtube veniva ammazzata diceva questo è il mio ultimo messaggio e se sono morta cioè questo è il motivo cioè sono stati loro no non è nessuno lei neanche ci riflette uno diceva ma in quel momento di panico e io minchia proprio in quel momento cliccavo Youtube diceva minchia lo carico vaffanculo bastardi no non ci pensano io veramente 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 non si può non si può è inaccettabile non è possibile vedere una roba del genere e farla passare liscia detto questo io mi ringrazio vi saluto e mi raccomando fatemi sapere a vostra se l'avete visto veramente sofferto come me e se la pensate come me su questo discorso perché qua i personaggi non hanno un minimo di cervello sono delle teste di minchia messe all'impiedi Netflix per favore porta qualcosa di decente portami un altro film a stile dei grey man a sto punto veramente pervenisco quello che mai almeno mi ci diverto questo mi sono rotto solo i coglioni per due ore che palle di film che poi vuole fare la morale no vuole essere pure moralista sempre con il razzismo di mezzo sempre le solite anni di essere sempre il political correct per forza e avete rotto il cazzo quindi ho detto questo vi saluto vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video sperando che sia un film bello perché mi sono rotto davvero i coglioni e ci vediamo